La rimozione di Giuseppe Gianrusso dall'incarico di direttore della protezione civile è illegittima. Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Campobasso, Laura Scarlatelli, a cui Gianrusso si era rivolto contro la decisione unilaterale assunta dal presidente della regione Frattura. Oggi finalmente, anche se in alcuni momenti credevo che la giustizia non esistesse, devo dire che la giustizia ha fatto il suo corso. Io ho sempre creduto nella giustizia, ho sempre creduto nel fatto che la verità prima o poi dovesse venire a galla. Oggi c'è stata una sentenza positiva, completamente positiva nei miei confronti, una sentenza che ha dichiarato illegittimo il decreto di licenziamento da parte unilaterale del presidente Frattura. Lei era al vertice della protezione civile qui in Molise? Sì, io ero al vertice della protezione civile e sono stato allontanato con un provvedimento preannunciato dal presidente Frattura, già in campagna elettorale, in maniera unilaterale e in maniera brutale. E questo ha portato a cose che sono evidenti, oltre al fatto che il sottoscritto ha sofferto insieme alla propria famiglia di cose che solo chi è passato in questi frangenti può capire. Ha portato a cose che è sotto gli occhi di tutti, la distruzione di quello che è un sistema che era un fiore all'occhiello per la protezione civile nazionale e quindi ha portato il Molise a essere conosciuto in tutta Italia come capacità di intervento. E ha portato purtroppo al blocco di quello che erano i fondi della ricostruzione, al processo di ricostruzione che il sottoscritto aveva avviato con molti sacrifici insieme a tutte quelle persone che con me hanno lavorato. Ecco, cosa farà adesso l'architetto Gianrusso? Beh, adesso l'architetto Gianrusso attende la sentenza di gennaio, fissata a gennaio per quanto riguarda il danno morale. No, attende, l'architetto Gianrusso sta lavorando, in questo momento sta lavorando al Comune di Campobasso con soddisfazione e attende che la sentenza e la giustizia facessi il suo corso. Tornerebbe alla protezione civile con lo stesso incarico? Beh, il sottoscritto non sa cosa farà. Non sa se è il caso di tornare alla protezione civile, non per disamore rispetto a quell'ambiente. La mia protezione civile è una mia creatura, è nel mio cuore. No, io amo la protezione civile, però purtroppo i tempi sono cambiati, sono cambiati i momenti e sono cambiate soprattutto le persone. Intanto, con una nota, l'agenzia regionale minimizza l'accaduto e ribadisce che nella governance di protezione civile nulla cambierà rispetto a quanto stabilito dal governo regionale. Però resta da capire chi tirerà fuori i quattrini per risarcire Gianrusso. Di certo verrà fatto con i soldi pagati dai cittadini con le tasse e c'è da chiedersi anche, se non sia il caso, che la Corte dei Conti intervenga per recuperare il danno erariale inopportunamente provocato da scelte improvvisate solo sembra per rispondere a logiche persecutorie nei confronti del dirigente che, stando al giudizio dei giudici, non lo meritava.